Probabili formazioni di Napoli salernitana, ma prima di scoprire chi avrà l'onore di giocare una delle partite più importanti degli ultimi anni, iscriviti al nostro canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel club più amato dai suoi tifosi. Privo di Mario Rui e Politano, Spalletti si affida ai titolarissimi al Maradona, dove si attende solo la festa Scudetto. Dentro Lozzano, nel tridente insieme a Osimen e Quaraschelia e Olivera in difesa, reparto con Ramani dall'inizio. Paolo Sossapunta Sudia rifornito da Castanos e Candreva, si rivedono Mazzocchi e Daniliuk. Napoli, 4-3-3, probabile formazione, Meret, Di Lorenzo, Ramani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zilinski, Lozzano, Osimen, Quaraschelia, indisponibile Politano. C'è ancora Lozzano a destra nel tridente con Osimen e Quaraschelia, assente anche Mario Rui. Confermato Olivera a sinistra in difesa, reparto dove Ramani torna dall'inizio. Panchina iniziale per Elmas insieme a Raspadori e al recuperato Simeone. Salernitana, 3-4-2-1. Probabile formazione. Ochoa, Daniliuk, Giomber, Pirola, Mazzocchi, Kulibali, Vilena, Bradaric, Candreva, Castanos, Dia. Commenta cosa ne pensi della formazione della squadra di Spalletti. Lascia il tuo like e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli, sempre e tutto per lei.